Amici e amiche interessi, siamo sempre qua insieme a voi, scusate per la mia assenza, però ci siamo un po' di fare, ci siamo brevi, però ricominciamo un piano piano, con questo nuovo episodio dove parleremo soprattutto solo di amichevoli dell'Inter, quando si giocheranno e con che squadra si giocheranno il dicembre dell'Inter, che comincerà a breve, perché siamo al 2 dicembre, tra 3 giorni, scenderà in campo l'Inter, l'Inter che si troverà a giuntire il giorno prima e poi domenica partirà per Malta, fino a Malta dove rimarrà fino al 9 dicembre e in questo 9 dicembre sfideremo il 5 del 12, il Grand United, poi il 7 del 12 a Sarisburgo e poi entrambe allo stadio Tony Bessina di Pagliari, di Paolo, sempre al 18 che ci sarà e ci sarà Betty Siviglia e Regina e poi infine per chiudere il dicembre dell'Inter, il 28 del 12 dopo Natale, prima con la Regina dopo Natale contro il Sassuolo a Reggio Emilia, quindi un calendario tutto sfumato molto ci può stare, per preparare al campionato che il campionato vedrà in scena da 3 gennaio, dal weekend 3 gennaio e 4 gennaio, quindi vedremo se ci saranno tante sorprese, io spero di sì perché l'Inter deve scendere con massima grinta contro il Napoli e lo spera, invece il Napoli è partito proprio ieri col Pulma verso la Turchia, quindi ecco questo è un aggiornamento che voglio darvi sul Napoli, che ieri è proprio partito da Napoli, ieri poveriggio, quindi questo è il contenuto di oggi, iscriviti al canale e sempre solo forse di intercione ragazzi.